Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito mute. Ci eravamo andati davvero vicinissimo, ovviamente col nome è stato più semplice, ma con l'ambientazione della mappa che ne dite? La Ubisoft ha pubblicato un'immagine stupenda sul suo profilo Twitter, la state vedendo, in cui si può apprezzare uno scorcio delle montagne dell'Atlante, una catena che attraversa tutto il Marocco, incorniciato tra le mura di una casba, ovvero di una struttura difensiva tipica di questa regione, concettualmente qualcosa di molto simile ai bastioni di cui vi ho parlato nel video precedente. Ed indovinate quale sarà il nome della mappa? Fortress, che in italiano sta proprio per fortezza. Nel comunicato ufficiale che vi lascio giù in descrizione risalta una frase in particolare, goditi un accesso al tetto senza precedenti, ma cerca di mantenere la concentrazione nonostante l'oasi mozzafiato a due passi da te. Ma l'idea di avere un edificio all'interno di un'oasi nel deserto mi piace molto di più. Anche con l'oasi avevo sfiorato il panorama che circonderà la nuova mappa, ma ciò che più mi interessa è la prima parte della frase, accesso al tetto senza precedenti. Abbiamo già avuto qualcosa di differente con la mappa torre, ma sappiamo tutti com'è andata. Non credo che Ubisoft voglia riproporre qualcosa di simile, quindi immagino abbia a che fare proprio con le mura difensive di questa roccaforte, magari a più livelli. Diciamo che sono riusciti ad incuriosirmi. Ma andiamo avanti perché so che state fremendo. Passiamo ai nostri due nuovi Maestro e Valkyrie. No, sto scherzando, sono i due nuovi operatori marocchini dell'unità GIGR, di cui ancora non si conosce il nome, ma è innegabile assomiglino tantissimo alle nostre vecchie conoscenze, almeno in questa prima immagine. Nel comunicato si parla al maschile del difensore, che viene indicato come comandante di questa fortezza e paragonato alle montagne che circondano il luogo, in quanto a fermezza, imponenza e fierezza. Credo di non sbagliarmi quindi nell'ipotizzare che il nostro nuovo difensore possa essere un altro operatore pesante, con tre di corazza ed uno di velocità. Il fatto che Ubisoft l'abbia definito inamovibile mi fa sopporre che forse possa essere lui l'operatore in grado di chiudere le voragini aperte da Thermite, Bano o Maverick, di cui si era già vociferato parecchio in passato. Per il momento però atteniamoci all'immagine. Nella mano sinistra tiene un binocolo, ma non credo che abbia a che fare con la sua abilità. Per quanto possa essere uno strumento interessante, non ne vedo l'utilità in tantissime mappe. Al contrario un indizio potremmo ricercarlo sul suo fianco destro. Quello sembra un bastone animato. E no, non sono i cartoni. È proprio il nome dei bastoni che contengono una lama celata. In questo caso potrebbe trattarsi di una gembia, una sorta di pugnale arabo con una fodera lunga. Ma le forme mi ricordano tantissimo qualcosa di già visto in casa Ubisoft. Chi ha giocato ad Assassin's Creed Syndicate sa di cosa sto parlando. Purtroppo non si vedono armi, ma suppongo sia una scelta puramente grafica, per non spoilerarci troppo. Già la sola presenza di quel coltello particolare mi fa ipotizzare una meccanica differente per il melee, magari utilizzabile da distanze maggiori. Passiamo a quella che a questo punto dovrebbe essere l'attaccante. Dopo la pubblicazione della prima immagine della nuova operazione, un utente su Twitter aveva chiesto ad Ubisoft di introdurre una nuova hash nel gioco. La risposta? Non rimarrete delusi. Il comunicato ufficiale infatti recita il secondo operatore, un assalitore, che viaggia ovunque il vento la porti. Che dite? Chiaro riferimento alla sua velocità? Avremo effettivamente una nuova opzione alla piccatissima hash. Ciò che più ha attirato la mia attenzione però è la frase, ha un talento particolare nel mettere sotto pressione il nemico. E se fosse l'opposto di Lion? Cioè, mi spiego. Se avesse una sorta di gadget in grado di obbligare i nemici a lasciare la posizione e a non permettergli fisicamente di stare fermi. Magari una sorta di granata ad onda d'urto. Esplosione e il camper di turno viene spinto all'indietro. Ovviamente è un'ipotesi, ma secondo me non sarebbe così male. Nel caso dell'attaccante comunque riusciamo a distinguere le forme di un fucile d'assalto. L'immagine non è così definita ad averne la certezza assoluta, ma a parer mio assomiglia parecchio ad un Galil Is. Anche se le forze armate marocchine vengono equipaggiate soprattutto con varianti della K47 e del Fall. Ci tocca attendere ancora un po' per scoprirlo. Tornando per un istante al profilo Twitter di R6 vorrei farvi notare anche un piccolo particolare. La parte superiore del logo ha cambiato nuovamente colore. Questa sorta di marroncino come prevedibile sarà il tema di questa nuova season, il cui reveal completo avverrà durante le finali della Pro League tra il 17 ed il 18 novembre e potrà essere eseguito sui vari canali ufficiali di Rainbow Six. Per ora ci siamo detti tutto, ho cercato di indagare il più possibile su questa immagine. Spero che il video vi sia piaciuto e in tal caso vi invito a lasciare un like e a condividerlo con i vostri compagni di squadra. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!